Il dato confortante è che i sistemi regionali della sanità hanno garantito tutta l'assistenza di cui ce n'era bisogno. E' cresciuto il numero delle tende destinate al pretriage, sono 355, stiamo lavorando sul sistema dell'assistenza sanitaria, le regioni stanno potenziando, come sapete, l'offerta di posti per la cura e il ricovero anche in terapia intensiva. Noi abbiamo attivato il meccanismo della CROSS, la centrale remota di soccorso sanitario, che è una centrale che si attiva e ancora non si è attivata in caso di emergenze. L'attivazione avviene quando sul territorio regionale non ci sono posti disponibili e quindi bisogna ricorrere al resto delle altre regioni, quindi a posti disponibili sulle altre regioni.